Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta allo yogurt pere e cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 2, yogurt alla vaniglia, zucchero di canna, olio di semi di girasole, pere, gocce di cioccolato fondente, la buccia grattugiata di un limone, lievito per dolci vanigliato, zucchero a velo, sale e vanillina. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero, la scorza del limone e la vanillina. Azioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 10. riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo lo yogurt. Reazioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. riuniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio, il pizzico di sale e facciamo amalgamare per un minuto a velocità 5. Rimiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo adesso la farina. Il lievito. Ed azioniamo il bimbi per due minuti a velocità 5. A questo punto aggiungiamo le pere e le gocce di cioccolato. ed azioniamo il bimbi per 30 secondi anti-orario velocità 3. Il composto è pronto. Trasferiamolo in una teglia del diametro di 24 centimetri rivestita sul fondo con carta da forno e imburrate laterali. cuocere in forno preriscaldato statico a 160 gradi per 45-50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta. Lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta allo yogurt, pere e cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie Grazie